8 once di uno squisito burger di taglio anatomico. L'Aberdine Wee Green, il più grande della famiglia Wee Green. La macchina è studiata per la grande produttività. Mettiamolo alla prova. 18 hamburger da 8 once, che equivalgono a un po' più di 250 grammi. Cuoceranno in 5-6 minuti, medium, rare, in grado di cottura. 18 hamburger da 8 once, 4 kg, 500 grammi di burger in 6 minuti. Cottura medium, rare. La macchina è studiata per la grande produttività.